Do ancora il benvenuto alle porzioni del territorio Ligure del Ponente che hanno cominciato a vedere anche il nostro segnale, eravamo già presenti in molte zone ma adesso con l'attivazione dei nuovi impianti del digitale di nuova generazione possiamo essere presenti in molto più territorio del nostro Ponente Ligure. Benvenuti anche su Telepace, ci trovate al canale 12 e al canale 85. Le altre zone della Liguria progressivamente, sapete, fino al 25 di maggio avranno accensioni progressive. Ebbene, se qualcuno però non vede Telepace, magari la vedeva prima o non la vede più oppure ha sentito che nella propria zona c'è il segnale di Telepace e non riesce a riceverle. Certamente non mi sto rivolgendo a loro adesso, magari a qualche vicino di casa, qualche amico, qualche parente che ha sentito questa affermazione, ma io non vedo, non vedo più Telepace, non vedo più questo canale o quell'altro. Cosa occorre fare? Beh, in primo luogo, ce lo siamo già detti, occorre fare nel momento in cui avviene il cambio al digitale nuovo, la risintonizzazione, occorre andare sul tasto menu, risintonizzare i canali e troverete anche le emittenti con la collocazione nuova, sia le emittenti locali che quelle nazionali. Ma qualora anche in quel caso non vedeste, dovete contattare il vostro antennista. Aspettate a farlo dopo che c'è stato il passaggio, non prima, non c'è da avere nessuna fretta. Cercate il vostro antennista, sicuramente lui al corrente su quale è la situazione nel vostro territorio e risolverà questo problema perché ormai il segnale è perfettamente ricevibile in tutta la Liguria nelle aree principali servite da canali televisivi. Telepace è disponibile lì, allora ci troverete insieme agli altri.